benvenuti a tutti i logistics ed analytics italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino interessante il video sarà veramente breve come si introducono delle percentuali casuali all'interno dei fogli di calcolo noi utilizziamo libreoffice calc ma lo stesso discorso vale per tutta la suite praticamente di macrosoft office cioè queste tipo di funzioni sono di base si può fare anche con excel ovviamente allora prendiamo il nostro foglio di calcolo inventiamoci una qualche attività ci iscriviamo lunedì e utilizziamo l'autocompletamento prendiamo la maniglietta andiamo verso destra e facciamo fino a domenica poi ci inventiamo per esempio la nostra settimana settimana facciamo settimana 1 inventiamoci quattro settimane di questo business tiriamo giù con la maniglietta e adesso dobbiamo mettere delle percentuali casuali per un qualche motivo la prima cosa da fare è selezionare tutta la nostra serie di celle dove vogliamo mettere delle percentuali casuali ad esempio da lunedì al sabato il domenica è chiuso e poi che cosa facciamo scegliamo immediatamente vedete il formato di cella percentuale perché deve essere una percentuale d'accordo questa è la prima cosa da fare selezionare le celle mettere percentuale perché se si seleziona il formato celle percentuale dopo aver fatto un inserimento di dati praticamente moltiplica per cento adesso c'è una funzione semplicissima noi mettiamo uguale casuale punto tra vedete questa è la funzione casuale punto tra e poi bisogna mettere semplicemente il numero minore punto e virgola numero maggiore ovviamente noi mettiamo 1 punto e virgola 100 perché le percentuali vanno da 1 a 100 diciamo in questo caso e poi dividiamo per cento quindi rivediamo la formula casuale punto tra inserisce i numeri dall'1 a 100 1 più punto virgola 100 diviso 100 con il formato celle percentuale che abbiamo già inserito ci dà la percentuale casuale facciamo invio vedete 31 per cento prendiamo la maniglietta e tiriamo giù verso destra vedete poi prendiamo la maniglietta tiriamo giù verso il basso ed ecco che viene una serie di celle un foglio di calcolo con delle percentuali casuali questo può servire a qualcuno diciamo sia nel caso in cui c'è bisogno di riempire un foglio di calcolo con dei numeri casuali la funzione è casuale punto tra aperta parentesi il numero più basso punto e virgola il numero più alto e chiusa parentesi se noi vogliamo delle percentuali si seleziona la serie di celle si utilizza il formato celle percentuale poi si divide tutta la formula per cento ed ecco che vedete ci sono delle percentuali che vanno praticamente da 1 a 100 questa era la maniera per inserire in un foglio di calcolo delle percentuali casuali dall'1 al 100 un video molto breve finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine spero sia stato di vostro interesse al prossimo video di logistics ed analytics italia grazie 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 grazie